La situazione è questa. Allora, guarda, la situazione è questa. Stiamo perdendo fedeli con tutti. Islam, hinduismo, persino i testimoni di Jehovah ci stanno superando. Il valore di un'idea non lo si giudica dalla sua popolarità. E anche questa cosa deve cambiare. Per esempio, che nome ti sei scelto? Giovanni. Giovanni? Sì. Giovanni centoquarantacinquesimo? No, ventiquattresimo. Ma per favore. Non va bene? Eh no che non va bene. Ci vuole un nome più immediato, più provocatorio. Tipo? Cristo. Cristo? Sì. Cristo secondo, la riresurrezione. Ma non è blasfemo? Siamo noi che decidiamo quello che blasfemo e quello che non lo è. Ricordatelo. Dobbiamo svecchiare il nostro brand, fare un restyling del marchio, essere più catchy, capisci? Più catchy. Esatto. Vedrai, con la mia mente e il tuo costume faremo grandi cose. Grazie. 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 Grazie.